Via Magalotti, quartiere Sant'Orso, una strada che negli ultimi tempi sembra essere sotto il mirino dei ladri d'appartamento. Negli ultimi due anni sono una decina le case visitate dai ladri, alcune anche più di una volta, ma l'apice si è toccato ultimamente. Nelle ultime due settimane ben quattro famiglie hanno subito la violenza dei ladri dentro casa, a pochi centimetri dal letto, nel cuore della notte. Un'esperienza che ti sconvolge, non tanto per ciò che possono portarti via, per la maggior parte delle volte arraffano ciò che hanno a portata di mano, soldi, oggetti piccoli, orologi, ma per la sensazione di insicurezza che ti lascia. E ora gli abitanti della strada chiedono un occhio di riguardo alle forze dell'ordine, perché se lo sentono che il pericolo non è affatto passato. Chiuso di là, chiuso di qua, questi vengono dentro, noi dormiamo, ci portano via tutto e la polizia fa quello che può, allora noi chiediamo che rinforzano se è possibile qualche giro, qualche visita delle macchine, non solo al centro commerciale, oppure se no mettere delle telecamere. L'ultimo furto l'altra notte, con quattro persone in casa, una finestra forzata, un balzo e si è dentro casa. Sono stati lunedì notte, io per lavoro ero fuori, quindi c'erano solo mia moglie e i miei figli, che quindi sono rimasti un po' anche scioccati, al di là del valore, del poco che hanno portato via, però è la paura. Anche qui sono già passati, in questa settimana hanno fatto 3-4 furti, uno sta sempre con ogni rumore di notte, sta attento, però ci vorrebbe, come ha detto prima il signore, un controllo in più. Ma non è solo la notte, il momento propizio, se le vittime sono deboli ed indifese, come due dolcissimi nonnini, anche di giorno, senza pietà, i ladri agiscono. Da lei sono entrati addirittura in pieno giorno? Sì, in pieno giorno, di qua, del garage, noi, i pagni, i pagni che erano sciotti, sono entrati dentro. Quindi adesso siete sempre così, sul chi va là? Grazie. Grazie.